Oggi, 11 luglio, è festa di San Benedetto, patrono d'Europa, ed è un momento per ricordare con senso di amicizia e di riconoscenza anche le comunità benedettine presenti e attive nella nostra diocese di Padova e anche occasione per ricordare la providenziale opera dei Benedettini per lo sviluppo e l'evangelizzazione delle nostre terre. Durante il tempo estivo può essere più facile sostare e come il nostro Creatore possiamo fermarci a contemplare il nostro operato e scoprirne la bontà. Nell'alternanza dell'ora ed labora liberiamo il nostro fare dall'affanno e il nostro sostare dall'ozio. Ci regaliamo così spazi per restituire i nostri pensieri alle nostre scelte, sia personali che comunitari, l'ampiezza della speranza e la pregnanza della carità. Ci permettiamo di abitare la pace dei nostri cuori e di rendere dimore di pace le nostre comunità. Dio ci dona sempre la fantasia e il coraggio necessari ad aprirci con bontà alla storia, persino quando alle nostre forze pare impossibile e quando la realtà ci spaventa. Carissimi, desidero anche condividere il mio dolore nel sentire come la barbarie di linguaggio e di atteggiamenti verso i poveri che cercano a prodo nelle nostre terre e verso quanti prestano soccorso, nonché la legittimazione e l'annullamento dei diritti umani, contaminino spesso i pensieri e i sentimenti nostri e delle nostre comunità. San Benedetto partì dalla conversione del cuore e poi costruì monasteri che divennero nel tempo quello che Papa Francesco definisce culla della rinascita umana, culturale, religiosa e anche economica del continente. Così noi, entrando nella verità del nostro cuore, possiamo trovare la forza di vivere nella pace e costruire vere comunità di pace. C'è bisogno di uomini e donne di pace, di cristiani consapevoli che un legame di fraternità li lega ad ogni persona e un legame d'amore privilegiato li lega a Cristo ogni volta che sfamano, dissetano, vestono, curano, accolgono i suoi fratelli più piccoli perché lo fanno a lui. Spalanchiamo le nostre menti e i nostri cuori e amiamo. Spalanchiamo le nostre comunità al discernimento dell'oggi che interpelle il nostro essere testimoni dell'amore. Questo tempo ci chiede il coraggio della verità evangelica che ci aiuta ad aprire nuove frontiere per gestire la complessità e ci evita di acconsentire a meschinità oltraggiose della dignità che ci rinserrano dentro confini densi di sterili paure. Nella celebrazione della festa di San Benedetto, patrono della nostra Europa, evolgendo lo sguardo a quell'incontro previsto di riflessione e spiritualità del nominato mediterraneo frontiera di pace, che nel febbraio prossimo riunirà a Bari tutte le chiese che si affacciano sul nostro mare, desidero sollecitare le nostre coscienze e gli animi delle nostre comunità perché anche la nostra chiesa di Padova offre il suo contributo a sostegno dei vari popoli per rinnovare lo sviluppo sociale, a trasformare gli aspetti di giustizia e iniquità e a promuovere un'azione di pace comune. Preghiamo San Benedetto, affinché aiuti l'Europa a fare scelte coraggiose di solidarietà, di accoglienza e di inclusione. E perché in ciascuno di noi cresca il desiderio di comprendere in modo sapiente quanto stiamo vivendo, per imparare a farci carico dei fenomeni mondiali, a partire dei nostri piccoli comportamenti quotidiani e a perseverare nell'opera di comunione e fraternità verso ogni fratello e verso ogni popolo che ci tende la mano.